Due conti in Svizzera e un appartamento di lusso nel centro di Milano sono questi i beni sequestrati dalla divisione anticrimine della Questura di Milano e dalla Guardia di Finanza che hanno dato esecuzione a due decreti di sequestro antimafia per un valore complessivo di circa 3 milioni di euro, uno nei confronti di un noto avvocato del Foro Milanese, l'altro del compagno dell'avvocato. L'avvocato era stata condannata nel 2018 per riciclaggio dopo aver realizzato sofisticate attività di ripulitura attraverso alcuni conti correnti in Svizzera dei proventi illeciti del boss di Camorra, Vincenzo Guida, che è stato il promotore di un sodalizio criminale strettamente collegato alla cosiddetta nuova famiglia della Camorra napoletana, in passato arrestato e condannato per aver realizzato un giro di usura su larga scala divenuto famoso con il nome di Banca della Camorra. Sono rapporti accertati con delle sentenze di condanna per cui è stato accertato che questo avvocato gestiva non soltanto gli affari professionali del boss ma gestiva anche gli affari economici, gestendo dei conti correnti in Svizzera che erano dai quali sono transitati milioni di euro e svariati milioni di dollari. Una figura, quella dell'avvocato nota da tempo agli agenti, la donna infatti era già stata coinvolta nell'operazione Liotro della DDA di Milano relativa all'omicidio del pregiudicato Salvatore Forciniti del 1992, perché accusata di aver preparato la disposizione di un testimone. Su di lei erano poi piovute due denunce, una per associazione di tipo mafioso con l'accusa di aver svolto il ruolo di intermediario nell'affari del clan Guida relativi all'acquisizione di alcuni locali del milanese, l'altra per corruzione in atti giudiziari. E tali giudizi, seppur terminati con la soluzione per insufficienza di prove, hanno comunque evidenziato la pericolosità sociale della professionista, nonché i legami professionali e personali che la legano alla figura di Guida e al suo sodalizio criminale. Il secondo provvedimento di sequestro è stato invece eseguito nei confronti del compagno e convivente dell'avvocato, già oggetto di numerose indagini di polizia giudiziaria e condannato in via definitiva per bancarotta fraudolenta e reati tributari. Ha avuto un trascorso criminale importante, per cui era già stato soggetto a diverse condanne e diverse indagini. Inoltre, congiuntamente alla compagna, soprattutto anche nel contesto di riciclaggio, hanno cominciato una convivenza oltre che personale, anche una collaborazione quasi criminale, sicuramente avvicinandolo anche alla criminalità organizzata radicata nel territorio milanese. Il compagno era specializzato nel trarre ingenti guadagni, pilotando i fallimenti delle proprie società, che emettevano fatture per operazioni inesistenti e omettevano il versamento degli oneri contributivi e fiscali. Le approfondite indagini patrimoniali svolte dalla divisione anticrimine e dalla Guardia di Finanza hanno rilevato gli ingenti profitti illeciti dei due soggetti, grazie ai quali gli stessi hanno condotto un tenore di vita del tutto sproporzionato rispetto ai redditi da loro dichiarati. Non possono essere, perché è matematicamente dimostrato che non possono essere il frutto di una vita professionale, perché le somme sono talmente esose che non corrispondono ai redditi dichiarati. In particolare sono stati sequestrati due conti correnti svizzeri, denominati uno Mago Merlino e l'altro Bedrie Investment S.A. E un immobile di lusso sito nelle vicinanze dell'Arco della Pace, con cantina e due box auto. Il valore complessivo del sequestro è di circa 3 milioni di euro.